L'inchiesta Primario Terramano accusato da detenuto in cella per droga, Spaccio per pagare l'intervento di mio padre. Savona Terramo, la società congela il DS Marcello Di Giuseppe a pochi giorni dal deferimento. Inchiesta L'Aquila, soldi per pagare il silenzio coi magistrati, di nuovo ai domiciliari l'ex assessore Tancredi. Comune di Terramo, l'assessore Guardiani, nel bilancio fatte scelte forti ma non ci saranno grandi sacrifici. Noi lucidi, al via il cantiere alla Madonna delle Grazie, sarà tagliato il marciapiede. Acqua, nessuna emergenza idrica, basta per tutti ma senza sprechi, lo dice il Ruzzo. Port Calcio, primo bagno di folla per il Terramo di Serie B, in 400 arrivi Sondoli. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. Apriamo con la cronaca. È una vicenda dai contorni da chiarire quella che vede coinvolto un primario dell'ospedale di Giulianova accusato da un giovane albanese di avergli chiesto una tangente di 5.000 euro per operare il padre in un ospedale pubblico. L'esistenza di un'inchiesta e di un avviso di garanzia nei confronti del medico Terramano è venuta alla luce con la perquisizione nei suoi studi, nella sua abitazione e nel reparto e con l'acquisizione di computer, telefoni e dischi di memoria che sono stati però già restituiti al professionista. L'iniziativa della finanza Terramana arriva ben più tardi della vicenda che si sarebbe verificata nel 2012 e raccontata dall'albanese agli investigatori ascolani al momento del suo arresto nel 2014. Sì, perché a contestare la richiesta e il successivo pagamento dei 5.000 euro al primario è un giovane albanese residente in Val Vibrata, nello stesso paese del professionista, che una volta in manette si è giustificato dell'attività illecita con la necessità di trovare il denaro per sostenere l'operazione chirurgica del padre. Avrebbe citato anche un testimone di questa vicenda, che però è deceduto in un incidente stradale nei mesi scorsi e dunque non più in grado di validare la sua versione. Secondo quanto si è appreso, l'anziano padre dell'albanese cardiopatico, in Italia per un periodo da trascorrere con il figlio, si era sentito male ed era stato assistito al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova. Da qui era stato trasferito al Mazzini di Teramo perché doveva essere sottoposto ad ulteriori test diagnostici. Furono i medici di Teramo, all'esito di questi, a decidere di sottoporlo all'operazione. Il tutto era accaduto mentre il medico accusato era in ferrie. Il fascicolo è approdato per competenza alla procura teramana soltanto due mesi fa. Da qui l'iscrizione nel registro degli indagati. E torniamo a parlare della presunta Combin nella gara tra Savona e Teramo. Il Teramo si avvicina al deferimento federale e poi al processo senza il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe. Il DS della promozione fresco di rinnovo contrattuale per tre anni è stato sospeso dall'incarico in attesa degli sviluppi dell'indagine sulla presunta Combin Savona-Teramo. E' chiaro che adesso le strade processuali dei due indagati di Giuseppe e il presidente Campitelli si dividono con presumibili diverse qualificazioni di responsabilità. I dettagli nel servizio. Il Teramo entra nella settimana più torrida della sua vita calcistica senza il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe. La sua sospensione, anticipata alla vigilia della prima uscita amichevole a rivisondoli della squadra di Vivarini nella preparazione per la Serie B, suona come antipasto della bagarre che si affronterà nel processo sportivo dinanzi alla commissione disciplinare. La società di via Oberdan si mette alla finestra per capire le responsabilità del direttore sportivo nelle sue trattative con l'ex responsabile dell'area tecnica dell'Aquila, Ercole Di Nicola, portate alla luce dalle intercettazioni. E questa presa di posizione disciplinare rafforza sempre più l'idea che il padron Teramano potrebbe essere al centro di un grande raggiro di cui però non può certo pagare le spese il club con la sua Serie B. Lo chiedono soprattutto i tifosi, con il significativo striscione esposto ieri a rivisondoli. Più passano le audizioni, più si rimescono carte e dichiarazioni, più appare chiaro che Palazzi voglia tirare campitelli dentro l'inchiesta per le orecchie. Ma come spesso accaduto in altre indagini sportive federali, al Fumus investigativo non è corrisposta a poi concretezza processuale. E questa indagine sulla presunta Combin di Savona fa acqua da troppe parti, a cominciare da appuntamenti fantasma, giocatori descritti come paladini della legalità ma da sempre allo scuro dell'imbroglio, risultati aggiustati senza l'intervento di chi gioca in campo, intercettazioni dall'interpretazione forzata. E se a questo aggiungete la corsa dei media a chi conosce il dettaglio più sconosciuto e fantasioso, beh, il processo è già bello che celebrato. Però adesso ci siamo. Domani si chiude la fase istruttoria della indagine federale sulla presunta Combin, con le audizioni reennesime degli ex consulenti del Savona, Marco Barghigiani ed Enrico Cenicola. Davanti agli 007 di Palazzi ribadiranno di non aver mai incontrato il presidente del termo Campitelli e di non aver mai parlato con lui per alterare il risultato della partita poi rivelatasi decisiva per la promozione in Serie B. E se fosse stato ancora necessario ribadire che Campitelli non c'era, anche l'ex tecnico di Savona e Barletta, Nini Corda, che sta assumendo un po' il ruolo di gola profonda di questa vicenda, lo ha ricordato. L'allenatore sotto squalifica federale per la Combin Savona-Spal è tornato di fronte ai procuratori federali sabato, dopo averlo fatto una settimana fa ed aver rilasciato interviste a tanti quotidiani, in primis a quegli ascolani. Corda ha detto di non conoscere Campitelli, ma soprattutto che il 18 maggio non è mai stato a Teramo, come invece si vuole sostenere per chiudere il cerchio della Combin. Nel pomeriggio è stata diffusa la nota del Teramo Calcio con la quale è stata ufficializzata la notizia che oramai girava da giorni della sospensione del direttore sportivo Di Giuseppe. Nella nota si legge che la Teramo Calcio, in applicazione del proprio codice etico, comunica di aver sospeso dalla propria attività il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe con l'augurio che lo stesso possa dimostrare nelle sedi competenti la sua estranetà ai fatti emersi nelle indagini della procura federale. E cambiamo argomento, ci spostiamo all'Aquila. Potevo dire tante cose alla magistratura e non le ho dette, per questo ti chiedo un aiuto economico. Questa in sintesi una delle richieste di denaro fatte da una delle figure di spicco dell'indagine, l'ex consigliere comunale di centrodestra Pierluigi Tancredi, arrestato e posto ai domiciliari, svelate dal sostituto procuratore Antonietta Picardi nell'ambito della nuova inchiesta sulla ricostruzione dell'Aquila, denominata Red Rationem, collegata a quella Daut Des del gennaio 2014. All'epoca dei puntellamenti aquilani ci fu un patto tra imprenditori e quello all'epoca era un rappresentante politico. Attualmente chiede pagamento per il suo silenzio con la magistratura, detto il PM in riferimento a Tancredi, del quale non pronuncia il nome definendolo ex politico. Il PM ha spiegato che se avesse rivestito ancora un incarico pubblico sarebbe stata concussione. Ora si configura invece la tentata estorsione. Tancredi, dopo essere stato eletto dopo il sisma, fu nominato consigliere delegato per la ricostruzione e beni culturali, poi dimessosi dall'incarico in seguito alle polemiche successivamente anche da consigliere comunale. Picardi ha ricordato la parabola del Vangelo di Luca dove si chiede conto appunto ad un amministratore infedele per spiegare l'origine del nome dell'indagine. E le indagini sono state svolte da ultimo l'ufficiale dei carabinieri che arrestò Totò Riina. Abbiamo dovuto fare scelte difficili ma non sarà un bilancio di lacrime e sangue. Lo ha detto l'assessore del Comune di Teramo, Eva Guardiani, a margine della commissione bilancio che si è riunita questa mattina in municipio. L'intervista. Quello del Comune di Teramo non è un bilancio di lacrime e sangue, ha detto lei, assessore. Si è annunciato come un bilancio di lacrime e sangue, sicuramente tanti sacrifici sono stati fatti. Le scelte importanti sono state fatte già dall'inizio, da quando ci siamo insediati. E i risultati si iniziano a vedere adesso. Però per arrivare a un'economia della spesa, perché diciamocelo chiaramente, il problema di molti comuni come quello di Teramo è che sosteniamo delle spese purtroppo non più sostenibili. Quindi dobbiamo... Esempio? Ecco, la spesa per esempio relativa alla pulizia degli immobili, del verde, erano spese sopra, erano spese elevate che non ci possiamo permettere più. E c'è stata comunque una riduzione che ha portato a delle economie quest'anno, come avevamo già annunciato, anche la questione dei fitti passivi. Non è stata una cosa di poco conto trasferire tutti gli uffici negli immobili di proprietà del comune, quindi evitando di pagare affitti per immobili che non erano di nostra proprietà. Dobbiamo pensare quindi al nostro patrimonio, a gestirlo anche in maniera diversa. Tanto ancora dobbiamo fare per poter riportare, almeno tra un paio d'anni, il bilancio nel vero equilibrio. Il passaggio con i nuovi principi di bilancio non è stato semplice. Molti oggi in commissione hanno messo in evidenza che alcuni indici sono in aumento anziché in diminuzione. È un bilancio che va letto in maniera completamente diversa. Le spese del personale, per esempio, sembra che siano aumentate. Non è così. Va letto il bilancio proprio diversamente dagli altri anni. I prepensionamenti quest'anno portano un'economia di 300 mila euro. Nel prossimo anno e fino al 2017 ci sarà una diminuzione di un milione di euro circa. Sommato alle diminuzioni degli altri anni, una diminuzione del personale di 3 milioni di euro, mantenendo comunque i servizi che comunque il comune deve garantire. Parliamo del servizio anagrafe, anche i servizi tecnici che svolgono il loro lavoro, il settore tributario, la polizia municipale. Insomma, sono su tutti i servizi che vengono erogati ai cittadini. Pare che non ce ne accorgiamo, però il personale è necessario per portarli avanti in maniera anche adeguata. Il Partito Democratico contesta la scelta dell'amministrazione terramana di inserire tra le entrate un milione di euro derivante dalle multe e il servizio. Il Partito Democratico denuncia il comune di Teramo vuole fare cassa con le multe. Dicevo che questo bilancio prevede nuovamente un'antecipazione di cassa da 30 milioni a 50 milioni e a tante criticità, ma in particolare vediamo una previsione più un milione di euro come entrate per quest'anno riferito alle contravvenzioni del coce della strada. Quindi ci riferiamo anche alle contravvenzioni del ZTL. Chiude il bilancio prevedendo quindi un'entrata di un milione di euro da contravvenzione sulle spaglie dei cittadini. Non vengono assolutamente diminuite le tasse, non viene diminuita le tasse sulla casa, soprattutto per le famiglie che avevano più figli, impegno che invece il sindaco aveva preso. E prevediamo inoltre una riduzione di alcuni costi, tra cui il costo della pulizia immobile, cioè viene tolto il servizio per un recupero di 430 milioni a favore delle casse dei comuni, ma che sicuramente graveranno sul personale che la Teramo utilizzava per la pulizia degli immobili, che ovviamente non potranno essere ricollocati nell'ambito di questo servizio. Un bilancio quindi che si chiude in positivo, che però grava sempre sul cittadino e sui lavoratori. Un bilancio che sta per arrivare in Consiglio? Sì, arriverà in Consiglio, noi ci stiamo discutendo in commissione in questi giorni, ma quello che è molto evidente è che i costi della politica si tagliano solo il 20%, una previsione di recupero solo di 44 mila euro. Anche la Prefettura ha dato l'ok alla sanatoria per le multe in ZTL per disabili e residenti in centro storico a Teramo. Abbiamo soddisfatto il sindaco Brucchi che dice che bisogna comunque fare ricorso alla stessa Prefettura. Entro il 15 settembre è l'intervista. In merito alle multe nella ZTL a Teramo, la Prefettura ha autorizzato la sanatoria per gli invalidi e per i residenti in centro storico? Sì, questa era un'attività che avevamo messo in campo da diverso tempo, poi magari qualcuno cerca di prendersene i meriti, ma non è un problema, però dovevamo aspettare l'ok della Prefettura e la Prefettura ci ha dato l'ok relativamente agli invalidi, facendo una distinzione, chi ha già il bollettino a casa della multa deve comunque fare ricorso alla Prefettura. Entro il 15 settembre. Quelli che invece non hanno ancora ricevuto il bollettino, ma sanno comunque di aver fatto altre infrazioni, relativamente infrazioni, devono fare un'istanza attraverso un modello che è a loro disposizione presso il comando dei vigili. Per i residenti aventi diritto è lo stesso discorso. Chi ha ricevuto il bollettino dovrà fare comunque il ricorso alla Prefettura, mentre gli altri potranno fare l'istanza, questo un po' in linee generali. Quindi dopo il sì della Prefettura andiamo avanti su questa strada. Sindaco, a proposito di multe, il PD vi accusa di voler fare cassa proprio con le multe, in bilancio è previsto un milione di euro di entrate proprio dal pagamento delle sanzioni. Allora, insomma, mi sono sicuro che dall'approfondimento il Partito Democratico le farà leggere meglio il bilancio. Quest'anno il bilancio si chiama bilancio armonizzato. Che cosa vuol dire? Che diciamo si possono, così come abbiamo fatto, iscrivere anche multe degli anni passati. E noi abbiamo inserito fra le multe anche multe degli anni progressi. Cosa ti dice però il nuovo sistema di bilancio? Che devi accantonare una quota a parte. Quindi è vero che tu puoi immettere le multe relative nel bilancio agli anni passati, relativamente al 2012-2013. E' vero pure però che poi devi fare un fondo di accantonamento. Cosa serve? Che nel caso che non si realizzino quelle entrate tu hai accantonato un fondo. Invece per le multe relative all'anno in corso, il 2015, ne abbiamo messo soltanto qualche centinaia di mila euro in più. Quindi non è vero che vogliamo fare il bilancio con le multe. E torniamo alla cronaca. Roberto Damiani, 40 anni, operaio di penne, morì a settembre del 2014, folgorato da una scarica da 20.000 volte mentre stava lavorando su un traliccio dell'Enel a Castelnuovo. Una morte per la quale adesso, a distanza di quasi un anno, la procura di Teramo ha iscritto sette persone nel registro degli indagati. Cinque dipendenti dell'Enel distribuzione, due della ditta per la quale lavorava la vittima, tutti accusati di omicidio colposo. Per la procura, infatti, a causare quella morte sarebbe stata tutta una serie di leggerezze e inadempienze che avrebbero portato chi doveva occuparsi della corretta esecuzione dei lavori ad effettuare i controlli propedeutici, compresa la sospensione della corrente su un traliccio sbagliato. Non quello di Pianura-Vomano, dove dovevano essere effettivamente sostituiti i pali e dove Damiani è rimasto folgorato, ma quello di Guardia-Vomano. Così, quando Damiana ha iniziato a lavorare sulla struttura di Pianura-Vomano, è rimasto folgorato. Una morte che poteva essere evitata per la procura e per la quale adesso il PM Giovagnoni ha chiuso le indagini con sette indagati. L'hanno salvata mamma e papà con una pronta reazione che le ha impedito di soffocare. È successo in un'abitazione di Alba Adriatica in via Isonso, dove una bimba di appena due anni e mezzo ha messo in bocca una monetina da 10 centesimi che le ha impedito di respirare. Stava accadendo il peggio con la bambina in evidente crisi respiratoria quando il papà e la mamma, con prontezza di riflessi e senza farsi prendere dal panico, hanno afferrato la piccola. Sono riusciti a far saltare la monetina dalla trachea all'esofago. Il soccorso del personale del 118 è stato immediato. La bimba è stata trasferita a Teramo. Il personale medico del Mazzini ha agganciato con un endoscopio la moneta da 10 centesimi, estraendola dall'esofago della bimbetta che è così potuta tornare a casa, fortunatamente senza ripercussioni, con i suoi genitori. Due insospettabili trentenni, uno è vigile del fuoco, vendevano droga a minorenni pescaresi della Pescara Bene. L'incubo per i ragazzi iniziava quando acquistavano la droga a credito. Determinante la denuncia di una madre dopo due anni di violenze e soprusi il servizio. Spacciavano droga, hashish, marijuana e cocaina a minorenni anche a credito e per i giovani consumatori allora iniziava l'inferno. Chiedevano ai ragazzi di custodire la droga per loro e poi li ricompensavano con delle cifre piuttosto alte relativamente alla loro età. Quella era la prima occasione di approccio e poi di induzione all'uso dello stupefacente. Mario Camplone, trentuno anni, vigile del fuoco, Fabrizio Tonelli, trenta, manutentore in villaggi turistici, pescaresi incensurati ed insospettabili fino a quando la squadra mobile di Pescara non ha ascoltato e dato retta al disperato racconto di una madre e la confessione quasi liberatoria del figlio. Sono partite le indagini, le intercettazioni fino a... Abbiamo aperto un vaso di Pandora perché abbiamo scoperto casi di assoluto disagio di famiglie che hanno affrontato insieme ai loro giovani figli questa piaga e che si sono ritrovate in difficoltà. Poche migliaia di euro di debiti diventavano un incubo per i minorenni e subito dopo per le famiglie. Camplone e Tonelli minacciavano, diventavano violenti, addirittura una madre si sarebbe prostituita per saldare i conti del figlio. Sì, abbiamo avuto il caso limite di una madre che pur di affrontare, di onorare i debiti che il figlio aveva contratto con i suoi spacciatori è stata costretta a prostituirsi. Abbiamo avuto altri casi di genitori che hanno acceso dei finanziamenti pur di pagare i debiti dei figli. Tre clienti di due, anche alcuni vigili del fuoco. I reati contestati sono lo spaccio di sostanze stupefacenti e l'estorsione. I poliziotti hanno eseguito la misura restrittiva, arresti domiciliari, disposta dal Gipser Andrea su richiesta del PM Varone nei confronti di Camplone e sarebbero in attesa del rientro in Italia del Tonelli, secondo i parenti, all'estero per lavoro. Ragazzi della Pescarabene? Sì, contesti familiari assolutamente normali, famiglie benestanti, ragazzi istruiti. Questa dimostrazione è il fatto che il fenomeno del consumo della droga è assolutamente trasversale. È stata la compagna a chiedere aiuto vedendolo galleggiare senza vita a circa un centinaio di metri dalla riva. Avevano preso un bagno insieme alle prime luci dell'alba, ma la donna era uscita prima dall'acqua. Poco dopo, non vedendolo più, ha notato, oltre il limite, acqua e sicura, un corpo a fiorare a pelo d'acqua. I soccorsi sono stati immediati, ma non c'è stato nulla da fare per Renato Tarozzi, turista bolognese di 80 anni, in vacanza con la compagna Pineto. Sul posto sono giunti il personale del 118, gli agenti del commissariato di polizia di Atri, oltre alla polizia municipale di Silvi. L'uomo molto probabilmente ha avuto un infarto fulminante che non gli ha dato scampo. Poliziotti della Questura, assieme al personale del reparto prevenzione crimine Abruzzo, della Capitaneria di Porta e della Polizia Municipale, hanno effettuato un mirato servizio contro l'abusivismo commerciale a Tortoreto. Sono stati rintracciati e identificati 22 cittadini stranieri, di cui due in posizione irregolare sul territorio nazionale, la maggior parte dei quali provenienti da Senegal, Bangladesh e paesi del Maghreb. Insospettabile spacciatrice arrestata dalla polizia di Teramo, donna cinquantenne, smerciava Ascish alla stazione ferroviaria di Albadriatica. La donna è residente ad Albadriatica ed è stata posta a disposizione della Procura della Repubblica ed ora agli arresti domiciliari. Torniamo a Teramo, dove sono partiti i lavori per l'arretramento del marciapiede davanti alla scuola Noelucidi di Teramo. È prevista la riqualificazione di tutta l'area. Il servizio. Primo cantiere tra i tanti che vedremo in estate a Teramo, davanti alla scuola Noelucidi, dove tra gli altri lavori è previsto anche l'arretramento del marciapiede. Sì, come avevamo sempre detto, oggi sono iniziati i lavori e speriamo di completare, sicuramente completeremo entro il 14 settembre l'apertura delle scuole che permetterà di sistemare l'annoso problema che abbiamo davanti alla Noelucidi con il parcheggio sulla carreggiata stradale. Intanto diciamo subito che il marciapiede ovviamente verrà modificato, non sarà più ampio come lo vediamo adesso, probabilmente partirà da dove ci troviamo in questo momento a fare l'intervista. Sì, rimane abbastanza spazio per i pedoni e quant'altro. Sto valutando insieme all'impresa e insieme all'ufficio di poter un attimino fare invece di fare i parcheggi in linea che ce ne entrano pochi, i parcheggi a spinapesce dunque saranno più il numero di parcheggi a disposizione dei genitori che verranno a riprendere e a lasciare i figli a scuola. Dunque stiamo valutando questo aspetto perché si tratterebbe di mezzo metro in più o in meno dunque è opportuno secondo me ampliare un attimino il numero dei parcheggi. I lavori non interesseranno solo i marciapiedi, vero? Rientrezzeranno tutto l'ambito di Porta Madonna perché sistemiamo tutto attorno alla rotonda anche nella zona in via di Albendis di fronte a Panica, a quello che vende la frutta. Verranno fatti due passaggi pedoni rialzati qui su Viale Crispi per mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale in piano di illuminazione nuova, ci saranno circa 180 mila euro di lavori che daremo una riqualificata per bene a questo tratto di città. Nessuna emergenza idrica in provincia di Teramo nonostante il caldo tropicale. Lo assicura il presidente del Ruzzo, Antonio Forlini che però raccomanda di non utilizzare l'acqua in maniera impropria. Sentiamolo. Le temperature tropicali di questi giorni hanno fatto aumentare di molto in provincia di Teramo il consumo di acqua. Il Ruzzo raccomanda di non farne un uso improprio? Sì, questo in realtà fa parte un po' dei nostri regolamenti della carta di servizi. L'acqua potabile è un'acqua preziosa e quindi va utilizzata in maniera accorta, parsimoniosa e quindi evitare di innaffiare giardini, pulire strade. Mi rendo conto che con il caldo l'acqua fresca abbia anche queste utilità però poi questo ci fa correre il rischio di dover poi magari penalizzare alcuni che rischiano di rimanere senza acqua. Non possiamo parlare, anzi non dobbiamo parlare di emergenza idrica? No, certo che no. In questo momento le nostre sorgenti sono ancora ai massimi delle loro portate. Per precauzione abbiamo avviato le procedure di avvio dell'utero del potabilizzatore ma al momento non ce n'è bisogno. Neanche sulla costa? No, 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 perché le piogge, diciamo, le nevicate invernali, le piogge primaverali hanno fatto sì che le portate delle nostre sorgenti in questo momento siano ancora ai massimi anzi addirittura abbiamo un surplus di circa 60 litri al secondo. Il caldo però continuerà? Il caldo continuerà? Fino a quando resisteranno? Allora è prevedibile ed è presumibile che le portate comincino a diminuire storicamente è sempre accaduto anzi normalmente le diminuzioni arrivavano anche prima però pensiamo che con l'arrivo e quindi con il picco di presenze sulla costa e con le temperature che pare che continuino a rimanere alte ancora se non alte come nei giorni precedenti comunque ancora alte riteniamo che insomma qualche criticità potrebbe arrivare e quindi per precauzione il potabilizzatore sarà pronto per l'eventuale uso. Interviene anche il sindaco di Penna Sant'Andrea nel dibattito sulla realizzazione o meno di un nuovo ospedale a Valenza provinciale che superi la logica dei quattro presidi attuali potrebbe andare bene a realizzare un nuovo ospedale ma è fattibile comunque ha detto Serrani la posizione contraria del sindaco di Sant'Omero aggiunto è comprensibile sentiamolo Sindaco, ormai la discussione è avviata quella sulla sanità su un ospedale unico nuovo da posizionare baricentricamente rispetto al territorio provinciale che ne pensa? Beh, a me sembra una buona idea però certo spero che non sia un'idea che resti nel libro dei sogni perché se sa le difficoltà che ci sono sia a livello regionale che a livello nazionale per quanto riguarda la sanità questo è un progetto ambizioso senz'altro sarà una buona cosa senz'altro potrà essere un'eccellenza per la nostra provincia ma non so fino a che punto questa strada sia percorribile se ci sono le risorse giuste per arrivare a realizzare questo sogno Favorevole al momento il sindaco di Teramo di Giulianova di Bellante nettamente contrario è intervenuto con una nota ufficiale il sindaco di Sant'Omero che difende invece il proprio presidio ospedaliero Beh, io direi può sembrare diciamo in un certo senso è chiaro che Teramo e Giulianova siano favorevoli perché diciamo posizionati in una zona baricentrica però magari chi viene dalla vibrata chi viene dal fino chi viene dalla zona di Atri potrebbe avere queste difficoltà dunque non mi sento di dissentire con quello che ha detto il sindaco di Sant'Omero Il sindaco di Bellante Mario Di Pietro ha annunciato che presto verranno ultimati i lavori del sottopasso di Molino San Nicola lavori compiuti all'80% resta solo da ultimare il raccordo verso la statale 80 affermato con soddisfazione il primo cittadino Sentiamo Sindaco Di Pietro che fine ha fatto il sottopasso ferroviario a Molino San Nicola la viabilità di raccordo l'abbiamo fatta? Beh, si sta ultimando i lavori sono stati portati avanti secondo i programmi hanno incontrato alcune difficoltà relative ad alcuni sottoservizi che nella realizzazione hanno richiesto diciamo degli adeguamenti compatibili con la realizzazione del sottopasso ma stanno andando avanti in maniera molto molto spedita i problemi sono stati risolti e la realizzazione diciamo è già fatta all'80% manca adesso un raccordo verso la la rotatoria sulla statale 80 rispetto alla quale si stanno anche valutando alcune possibilità migliorative anche per la viabilità pedonale già esistente quindi siamo diciamo all'ultimazione agli sgoccioli e spero che presto potranno essere ultimati questi lavori devo dire che sono soddisfatto della realizzazione che mi pare sia pari alle aspettative della popolazione e all'esigenza di collegare un raccordo viario pedonale e ciclabile tra il quartiere di Mono San Nicola e la frazione di Bellandestazione funzionale a integrare queste due realtà urbane il business delle aziende private sugli immigrati nella provincia di Pescara ammonta a 13 milioni di euro mentre senza tetto nostri concittadini dormono in strada e questa è la denuncia dei consiglieri di centrodestra che chiedono al sindaco Marco Alessandrini di rivolgersi in prefettura per l'esclusione della città dai siti di assegnazione e servizio a Pescara abbiamo già dato così il consigliere regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri ha commentato i due bandi della prefettura uno già scaduto il 17 luglio e l'altro pronto per agosto e che prevedono l'arrivo di una nuova ondata di profughi a Pescara ce ne sono già 400 ospitati dalla Caritas altri 60 sono stati accolti da un hotel nella già difficile zona di San Donato al costo di 34,30 euro al giorno più scheda telefonica e pocket money e molti altri si trovano nelle strutture della ASP della provincia vale a dire asili infantili e case di riposo ma se non si guarda in faccia neanche ad anziani in difficoltà e a bambini è solo per business queste aziende pubbliche spiegano i consiglieri di centrodestra preferiscono il guadagno di 30 euro al giorno e aprire le porte agli immigrati piuttosto che garantire un servizio per cui i cittadini abruzzesi hanno pagato e come se non bastasse continuano tutto questo succede mentre molti troppi concittadini vessati da precarie condizioni economiche dormono in strada l'appello dei consiglieri di centrodestra al sindaco Marco Alessandrini Pescara non può più accettare questa cosa non può più pensare di avere al proprio interno tutta questa presenza soprattutto in zone peraltro complicate della città come quella ad esempio di San Donato che è una zona sì residenziale ma pochi passi da via di per servizio ma è una zona che ha già diverse difficoltà quindi il sindaco faccio il sindaco di fronte a questi problemi si assumono le responsabilità e faccio come stanno facendo tanti sindaci in Italia e non solo in Italia ma anche in Abruzzo ad esempio pensiamo al caso di Penne quindi sì si presenti al tavolo per la sicurezza e dica che Pescara ha non più più sopportare questa presenza Torna sabato primo agosto l'appuntamento con la tradizione del pellegrinaggio a piedi da Teramo a San Gabriele 35esima edizione quest'anno e la corteo dei pellegrini a piedi portato per mano dalla guida spirituale di padre Francesco Cordeschi animatore della tendopoli di San Gabriele partirà da Teramo alle 22 il raduno è prevista alle 21 e 30 dalla cattedrale in piazza Martiri qui il vescovo di Teramo e Datrimon signor Michele Seccia impartirà le benedizioni ai pellegrini la previsione è che a San Gabriele arriveranno in 6.000 domani partirà da Giulianova la prima edizione del cammino teramano percorso turistico e religioso promosso dal comitato dei walkers a Bruzzo il servizio si chiama Cammino Teramano è una novità per la zona ne parliamo con Attilio Falchi che è l'organizzatore possiamo dire anche del walkers io sono il presidente del comitato walkers che ha promosso che vuol dire no fa me anche voi l'inglese ma si può sapere che vuol dire walkers camminatori camminatori di che si tratta? si tratta di un cammino che si rifà diciamo in dimensioni molto più piccole al cammino di Santiago di Compostela è un tratto di 100 chilometri che va da Giulianova dalla chiesa della Madonna dello Splendore fino al santuario del San Caprile della Dolorata e attraverso la valle del Salinello è un itinerario turistico culturale e religioso perché collega due santuari importanti di 100 chilometri quindi diciamo in una volta no sono in 5 tappe sono in 5 tappe diamo un contributo io personalmente che faccio parte della associazione dei walkers sono uno dei fondatori sì per cui ma poi in particolare noi diamo il contributo sotto l'aspetto turistico adesso l'architetto Falchi ci ha enunciato bene quello che è l'aspetto religioso io dico a questo territorio che ci troviamo di fronte probabilmente alla sorpresa turistica dell'anno si apre con questa manifestazione un camminamento che sarà poi svolto da centinaia e centinaia di pellegrini perché sarò sostenuto dall'organizzazione che coinvolgerà appieno il tessuto economico e turistico di tutta la provincia di Termo abbiate fiducia perché lo facciamo proprio con questo spilto lo spilto religioso è importante ma con un occhio al coinvolgimento di tutto il territorio della provincia di Termo all'interno della manifestazione Ripattoni Arte 2015 iniziata ieri e in corso di svolgimento espongono le loro opere gli artisti dell'associazione Bellantarte inoltre alla manifestazione non manca ovviamente il contributo fondamentale della locale Proloco il servizio Alberto Santori è il presidente della Proloco di Ripattoni ovviamente tiene moltissimo a questa manifestazione che accende il borgo di Ripattoni è la decima edizione e sono dieci anni che la manifestazione accende proprio il borgo di Ripattoni grazie l'idea del professor Sorgentone che purtroppo non c'è più è nata proprio questa manifestazione il borgo si attiva tutto e io ringrazio tutti i cittadini di Ripattoni che collaborano e ringrazio i miei collaboratori della Proloco che fanno tutto gratuitamente Fabienne Di Girolamo è la segretaria di Bellantarte questa associazione che all'interno di Ripattoni Arte 2015 propone Cree Action che cos'è? sì Cree Action è praticamente noi di Bellantarte siamo un'associazione di pittori e scultori noi creiamo semplicemente e quindi la nostra arte è messa al servizio del pubblico noi occuperemo sia il Palazzo Sariceti con delle personali e anche tutti i fondaci del borgo lo animeremo proprio di arte in tutto e per tutto ciascuno di noi è fatto di stili diversi e quindi ognuno mostrerà se stesso poi Bellantarte organizzerà anche un laboratorio per bambini e un piccolo concorso il giovedì e poi dal martedì avremo il concorso Nicola Sorgentone che è uno dei fondatori dei Ripattoni in Arte che ci ha lasciato anni fa e grazie appunto al suo ricordo faremo questo concorso arrivata all'ottava edizione la consegna delle opere ci sarà il martedì il sabato invece la premiazione del concorso e intanto domani alle 21 all'interno di Ripattoni Arte Slow Art sarà presentata la rassegna regionale di videoarte intitolata Silenzio per favore curata da Adina Pugliese il servizio primo appuntamento prima tappa della rassegna regionale di videoarte Silenzio per favore si tirerà proprio a Ripattoni all'interno di Slow Art Ripattoni Arte 2015 ed è curata da Aria la fondazione industria adriatica e questa rassegna è curata da Adina Pugliese che cosa vedremo? videoarte videoarte la meglio videoarte dei giovani a livello internazionale sono dieci artisti in realtà undici perché due formano un gruppo sono stati scelti per l'immediatezza di linguaggio e anche lo spazio breve di tempo perché tutti i video sono raccolti su un unico DVD perché tutto è come una piccola mostra in valigia e quindi questo unico DVD gira per sei comuni i comuni scelti in quanto rappresentativi delle nostre qualità abruzzesi quindi Ripattoni in quanto borgo Pesco Costanzo Borgo di Montagna San Vito Chietino Mare il Castello di Rocca Scalegna il Museo Laboratorio a Città Sant'Angelo e Pescara il Centro Storico dove Pescara è anche sede della Fondazione Aria che promuove questo progetto naturalmente saranno ospiti artisti critici gente del panorama culturale il tutto con cibo e musica che sono il legame effettivo poi per coinvolgere il territorio e la gente che non andrebbe mai a vedere una mostra e quindi anche la musica lì serve a meravigliare e ci saranno azioni di flash mob oppure coinvolgimento con i DJ e adesso andiamo a vedere insieme che tempo farà domani con le previsioni di Meteoteramo punto it Previsioni in Abruzzo al mattino sereno sui settori collinari e montani sereno sui settori litoranei dal pomeriggio fino a notte cielo in prevalenza sereno temperature stazionarie massime comprese tra 31 e 34 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 34 e 37 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli o moderati orientali mare poco mosso in provincia di Teramo al mattino sereno su gran parte del territorio provinciale dal pomeriggio fino a notte cielo in prevalenza sereno temperature stazionarie massime comprese tra 34 e 37 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 32 e 35 gradi sulle coste venti deboli o moderati orientali mare quasi calmo poco mosso siamo allo sport iniziamo con il calcio nel primo test amichevole stagionale arrivi sondoli il Teramo sovrasta 12 a 0 la rappresentativa dilettantistica locale un buon allenamento per i biancorossi che hanno così potuto mettere in pratica le idee tattiche spiegate in allenamento da mister Bivarini da sottolineare il poker messo a segno dal piccolo Cassano D'Agostino ad impressionare di più sono stati però i tifosi teramani a corsi numerosi per questa prima uscita del diavolo circa 400 supporter infatti hanno gremito gli spalti del campo di rivisondoli esponendo anche uno striscione abbastanza eloquente sulla vicenda che sta travolgendo il Teramo nell'ambito dell'inchiesta sul calcio scommesse su cui si leggeva aspettando la verità chi ha sbagliato pagherà intanto questa mattina i calciatori biancorossi hanno avuto una mezza giornata di riposo si sono ritrovati nel pomeriggio alle 17 agli ordini del preparatore Antonio Del Fosco l'Aquila lavora a colle di mezzo in preparazione della sfida di domenica contro l'Arezzo valida per il primo turno ad eliminazione diretta della Team Cup San Domenico e Ceccarelli non faranno parte del match del fattore visto che sono già con le valigie in mano e pronti a salutare l'Abruzzo per approdare verso nuovi lidi con l'addio dei due giocatori si spalancheranno le porte all'arrivo di Nicola Fiore intanto si allenano con la squadra Rosso-Blu anche l'ex Grosseto Emiliano Ilari e il difensore Marco Bigoni i due stanno convincendo lo staff aquilano e presto potrebbero firmare un contratto con la società del patron Chiodi nel primo test amichevole della stagione il San Nicolò strapazza la San Nicolese 9 a 0 a Castel del Monte i ragazzi di Mister Epifani hanno già iniziato ad affinare l'intesa in campo nonostante i grossi carichi di lavoro sostenuti durante la preparazione chi si è messo subito in mostra è sicuramente Riccardo Lazzarini che ha realizzato quattro gol ascoltiamo proprio il nuovo attaccante Biancazzurro nell'intervista Un volto nuovo del San Nicolò è Riccardo Lazzarini attaccante a lui si chiedono i gol Sì sai sì è chiaro per un attaccante più gol fa meglio è è chiaro che l'obiettivo è sempre la vittoria e quindi più che altro si chiede agli attaccanti a tutta la squadra insomma un impegno un forte impegno per sposare la causa del San Nicolò Il San Nicolò ha fatto molto bene in questi anni l'anno scorso soprattutto con la finale dei playoff quest'anno si può ripetere? Sì ne so qualcosa perché ci hanno battuto in casa 3 a 0 io giocavo a campo basso quindi l'ho incontrato diverse volte il San Nicolò ha fatto molto molto bene sarà difficile nel senso che comunque ripetere la stessa stagione però l'impegno è massimo ce la metteremo tutta è chiaro che gli obiettivi devono essere sempre maggiori quindi speriamo di farcela le squadre da battere? le squadre da battere adesso sinceramente non vorrei sbilanciarmi perché non le conosco so che il campo basso sta facendo un'ottima squadra so che la sanonettese farà la solita squadra forte insomma competitiva come il Chieti e poi insomma non lo so le altre squadre non le conosco San Nicolò è lì? San Nicolò è squadra da battere intendiamoci noi ovviamente il basket il roseto Sharks continua a lavorare sul mercato in vista del prossimo campionato di Serie A2 il nome nuovo per il ruolo di Alaforte è quello di Mohamed Faye senegalese di 206 centimetri che nella scorsa stagione ha militato nella Serie A greca il preparatore atletico terramano Claudio Mazzaufo farà parte della commissione tecnico-scientifica di preparazione delle olimpiadi di Rio del 2016 della Federazione Italiana di Atletica Leggera che partirà il 29 luglio proprio per il Brasile sentiamolo il professor Claudio Mazzaufo dal prossimo 29 di luglio sarà in Brasile per effettuare delle ricerche in ambito sportivo in vista delle prossime olimpiade è una cosa importante di che si tratta? allora si tratta di un progetto lanciato dalla Federazione Italiana Atletica Leggera che ormai è due anni che va avanti intitolato appunto coloriamo d'azzurro il cielo di Rio perché si spera appunto di colorare d'azzurro il cielo di Rio con le medaglie e quant'altro e praticamente riguarda il controllo su atleti top naturalmente della categoria juniors quindi 19 anni che verranno sottoposti a una batteria di test molto rigida per vedere appunto come questi ragazzi si acclimatano prima delle olimpiadi e il discorso oveglia sonno la variabilità cardiaca la percezione dello sforzo e quant'altro cioè poi test proprio sul campo che faremo noi tecnici addetti professionalmente per lei cosa significa? professionalmente è una cosa molto molto importante perché è ricerca io ho seguito due anni fa il dottorato di ricerca naturalmente sono stato chiamato perché in federazione nelle varie federazioni non ci sono molti dottori di ricerca e per me da un punto di vista professionale è molto importante perché poi si farà una pubblicazione di quello che è stato fatto e verrà praticamente dato a tutte le federazioni sportive per far sì che gli atleti vengano preparati al meglio a questa importante manifestazione venerdì 31 luglio alle 20 e 30 a Teramo in piazza Sant'Anna si terrà il primo memorial dedicato al maestro della box teramana Arnaldo Angelucci l'evento organizzato dalla nuova pugilistica a Teramo vedrà a protagoniste le donne le atlete italiane infatti sfideranno quelle polacche per il dual match femminile IUT e con questo è tutto grazie per l'attenzione buona serata grazie a tutti